Il dato percentuale relativo agli italiani che soffrono di almeno un disturbo psichico è in aumento e il Molise non ne è esente. Secondo il report 2024 di AXA e Ipsos sui problemi di salute mentale e benessere nella società, il 28% degli italiani ha un disturbo o problemi di ansia. Alla luce di questo l'importanza del cosiddetto bonus psicologo. Dal 18 marzo è possibile richiedere tale bonus, ovvero un aiuto che lo Stato offre per coprire un importo di 50 euro a seduta fino ad un massimo di 1500 euro, a seconda dell'Isee e della persona che lo richiede. Basta essere residenti in Italia ed avere un Isee non superiore a 50.000 euro annui. La domanda va inoltrata tramite il sito dell'Inps. A partire dal 31 maggio 2024 saranno realizzate le graduatorie degli aventi diritto che daranno priorità a chi ha redditi più bassi in base all'ordine clonologico di arrivo della richiesta sul portale Ims. Parallelamente allo strumento del bonus psicologo, commenta il consigliere regionale del PD Molise Vittorino Facciolla, vanno pensati anche altri interventi più strutturati radicati dentro il territorio. Nella scorsa legislatura regionale propose una legge regionale che prevedesse l'istituzione dello psicologo di base da collocare nelle case di comunità, proprio come prima risposta preventiva alla crescente domanda di benessere mentale che la comunità sta richiedendo, conclude l'esponente del PD Molisano. Grazie a tutti.